Tark Harvest Nocturne Crasp Gar... mamma mia che immagini che si vedono a questo elo ragazzi Ma questa è magia pura Questa è magia pura Col brocca heal electrocute con tre autoattacchi E' il classico zero full up esatto il famosissimo La brocca raccopre le ruine di Jax Jax ha il press di attack e il domination secondare Welcome back King Pengins Grazie mille buon anniversario Finalente 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 Forse è l'unico ma ti meriti tutti questi mesi Grazie della bellissima compagnia Ma grazie a te Pengins bentornato nella Felix Army caro Grazie mille del tuo prezioso resub Molto Molto Prezioso Belli i capelli così approvate ne sono felice anche se Vabbè tanto sapete che ho l'alone verde intorno ai capelli Il mio alone verde intorno ai capelli Oddio contro Garen non perde il conqueror è reato Si E' abbastanza reato Ma pure a parte ok Garen il graspe è buono ti aiuta a trattare in lane Però Garen dai Allora Garen è il champ che procca il conqueror più veloce della storia di Gof Legends Su Garen non puoi mettere il conqueror Cioè porca puttana Fai letteralmente QE e in mezzo secondo il conqueror è full procato Il report per Jax Aspettate Boom e si parte E si parte Si parte con le pote In area range che qua c'ha quel tizio Toh farmati tutti Lui no E lui no Questo mi piace pusha troppo in fretta Dove aspettare di avere la doppia buio Per poter fare le cose belle Puffete Ecco qua Avete visto che bel trade che gli ho fatto? Lui vuole proprio perma pushare Mamma mia Ah ma c'ha l'ignite minchia Cosa brutta Riammassa di jungle No Uh che tensione Che concentrazione Ok Grazie Zirel Bentornato Bello nella Felix Army Bentornato Allora farò il possibile per meritarme L'ho premesso Tipo cagare in testa sto tizio Là c'è il Master E Quindi non gridiamo Non usiamo la E Potrebbe arrivare top E invece no è qua No no tranquillo non lo so che ci sei Ma dove sarà Mastery ragazzi? Io proprio non lo so Io proprio non lo so Mastery in Campeggio time Campeggio time Tenda montata Che è sblood? Ah! Autoattacca! Sì! Autoattaccato Mamma mia quel cleans ragazzi Mamma mia il cleans Allora Non ho nessuno che mi aiuti a pushare Devo fare per conto mio Oh! Ho hitato qualcuno di ulti Mi ha dato il mana flow LOL Ah! Non ho fatto danni di è Peccato Sa che ho hitato Certo qualcun altro che era in base Mi ha dato il mana flow proprio in quel momento lì GG spontanea Meno male gold Meno male Un po' di riconoscenza ogni tanto Ok GG spontaneo Meno male che ogni tanto qualcuno mi fa il GG ragazzi Meno male Oppa la Qualcuno è esploso Fatti le scarpe Dopo Prima il Dark Seal Mi raccomando è molto importante Si è fatto la chain vest first item questo Ma 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 che cazzo Ok Ok Oh oh Bravo Bravo è meglio se scappi Bravo Ok Eh Che da Ma con che hitbox mi ha preso ragazzi Ma questo è allucinante Purtroppo non ci sono kill da prendere in giro per la mappa Sì vabbè ragazzi ma questa hitbox comunque fa veramente schifo Il giro è stato slavato 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 Tocca pushare e beccare qua Se mita con un'altra Q potrebbe ultarmi dopo Vabbè, vabbè, dai, ho capito Meglio prendere Una pozione Visto che contro questo qua mi serviranno Sto già capito che questo qua Con quelle cubi prende in base Una serie eternal Non ti tra perché non aveva mana Dice che è per quello 3-3 siamo Sono bergamasco, ti sembro bergamasco? Dude Hello? Vabbè, ma sto rincoglionito Vabbè, ha flashato Ma la ulti? Non ha preso la ulti, Nocturne Ma non ha preso la ulti, Nocturne? Cioè, mi stai dicendo che non l'ha sbloccata A livello 6? A cosa serve un Nocturne che non ha Sbloccato Si è anche ignitato Un Nocturne che non ha sbloccato la ulti, ragazzi Aaaaah Eh sì, Bobby Ne hai capito proprio un cazzo Eh, vabbè Caretti, qua muoio veramente di infarto Comunque Andiamo back Lucky? Ah, è questo che pensate di me? Non salirete mai Non salirete mai Mi dispiace Mi dispiace Rimarete pure nel vostro silver, allora Se pensate che stessi a fortuna No Outplayed, bravo Bella, Dave Dunter Ironico Lo so Ma sta La live è ironica Allora Qua Manca il mio amichetto Ah, è andato a mettere la Ah, è così che giochi, eh Vieni, vieni Questa la tolgo io Se non ti dispiace Sparisci? Esatto Non con un certo ridere di questo No, quello lì no Non ricordiamolo Per favore Ok Mi fa sempre ridere i jungler che usano lo smite rosso come fosse quello blu Come se slowasse lo smite, no? Quei danni W e, insomma Inizio ad avere due kill, eh Direi che me li merito anche sti danni, Lollosca Quando fai la reaction A chi è? A cosa? Io oggi pomeriggio stavo guardando dei video Oggi pomeriggio abbiamo guardato i video di presentazione Con Ludens poi easy one shot Adesso vedrete Riprenderlo Perché prendiamo il prossimo drago, sinceramente Serat, dove sei? Boom, Bobby E basta, però Palle, oh Dio santo Vabbè Se andavo indietro c'era il muster Che mi ritricasse Andavo avanti c'era la ulti Non potevo muovermi lì Clapperone Grazie Clapperone Grazie mille Clapperone Di questo tuo host Un crow È morto prima di ulti È tornato in lane E ce l'aveva di nuovo, di già A livello 8 Vabbè Grazie Clapperone Grazie anche a Itaringio 11 mesi Bentornato Signor Indio Nella Felix Sani Grande Sindra Che skill Hai missato tutto Bravo Clapper Ne è valsa la pena Bravissimo E che Elo Clap Dove ti ha Pre-piazzato Oh Te ne affanculo Cioè Sì ma con questo C'ha la ult Ogni volta che mi vede Ma cosa ha 40 secondi Cooldown Non sto scherzando 40-50 secondi E non hanno neanche Il cloud C'ha L'ultimate Tante Ragazzi Non vedo Altra spiegazione Ho Uno Oh Niente Dai non ci credo C'è arrivato davvero Mamma mia Ma che cazzo è No 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 Via da qui Vai ce la fai Nocturne Altro right click potente Via Mettiamo le scappette Oddio però non so se Non voglio farmi gialmeggiare sapete Ecco Almeno Capiamo il cool Redaction Quanto è 7.2 9.6 Che prescende ancora un pochino 85 se Non erano 85 Qua c'è avrà l'altimate hunter Perché quelli non sono 85 secondi C'è muoio Respawn Nell'ane Ce l'ha di nuovo Quindi non Non sono 85 secondi Avrà l'altimate hunter Oh Hittato Oh Nocturne Basta con quel cazzo di gromp Non mi prende Mi prende Oppala Dove andate Dove andate Ah era guardato Quindi Sei un beerbantello Xera Te ne affanculo E piate sto clean si in bocca E Ah I minion son fortissimi Oddio Ah Quasi Mamma mia Quanto ce l'ho creduto In quel one shot Peccato Eh 100-0 Non ci riesco Purtroppo Non ancora Almeno Non ancora Che skill che sei Mastery Bravissimo Dai Sei migliorato Dall'ultima volta No E le zilli fieri Kanguri Mamma mia Che scudo Che c'è Quello Un po' di danni eh Stuk Allora E' una bella Ulti qua Oddio Oh questo Oh questo non volevo Triggerarlo Giuro Sto hitando un bel po' di ulti Questa è una cosa molto buona Mi ha anche ancora Jax Da uccidere Per il cooldown della ulti Non la carry questa Mi dispiace Oddio Ho missato Se la neve Se la neve viene sotto Casa vostra Vaffa il culo la neve Non puoi piacervi Da soltanto fastidio Ce la si fa Ce la si fa Complimenti Jax Gravissimo Potrei vendere anche questo Chi se ne frega Il meggiare No Penso mi farò Il rabadon A sto punto Diretto Anca la Jax Eccolo qua Non è un game Da meggiare Questo Chiunque può Uccidermi Col cervello Spento Quindi bisogna Stare attenti Giochiamo smart Non buttiamo via i soldi Dai che voglio trarre Una bella ulti mid Ok Ma è una joy Ah 7 secondi 8 di cooldown Non male Palle sto cazzo di stun Oh Oh De matcha Le kill totali Sono tagliate Fuori dal layout Io leggo 19 Versus 15 Non capisco Cosa intendi Quindi Oddio Stare attento Stare attento Ulti qua I nemici Ah Oddio Ha ultato Ha ultato Perché ha ultato Per il drago Basta Fine della ult Bella ultima Sì EZ One shot Easy 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 one shot No Ma davvero non è morata Che palle Perché mi sento di fare così poco danno Ah perché è full magic resist Ecco perché sto facendo poco danno È full magic resist Sta puttana Ma che cazzo Ma come cazzo siamo ridotti Full magic resist Ma mi faccio Penetrazione qua non il morello Faccio Alla void stuff Il morello purtroppo fa poco Perché Ha già 55 in più di magic resist Con il morello quanto i tuoi 15 Non fa nulla Oddio Purtroppo Lux non fa i tanti danni Oh What the fuck Guarda lì come è tra l'otto La mastery Come corre Ne sei sicuro? Forse ho usato lei ma Non so come Nocturne possa vincere Sinceramente Ho perso Infatti Complimenti Mi sfortuna è troppo tank Non avevo mai pensato di dirlo Lì Dove è andato Prend? È sparito Ma è sparito Prend Dalla mappa Proprio Minchia Questo è un bel one shot Questa è stato Questo è stato un bel one shot Addio C'è una Miss Fortune Da queste parti Qua sta facendo Miss Ford 1.800 Mi serve Ok Eh Lui non posso prenderlo Mi servono soldi Soldi Oddio ragazzi Sta succedendo il bordello Ecco qua che succede il bordello Un po' Via! Via! Progio, che cazzo hai fatto? Cosa vuol dire che tu ci ha fatto tutta la sua? Ti ha spammato l'immot a caso Domani ho una partita a Bolzano Se vuoi ti saluto qualcuno, vai! Salutami tutti i napoletani di Bolzano domani, allora Ma come è indietreggiato subito ragazzi Ah, rispetti eh Boom! Niente Allora, guarda come scappa Peccato Look at the chasing Abbiamo visto, abbiamo visto Farebbe comodo questo Eh sì Mi avrebbe fatto comodo Ah, è flash E niente demasia Ok Oddio Ma Brandon non lo vedo proprio così tanto attivo in sto game Ah, te ne affanculo Mastery top Jax pure Bene Hello Eeeh, volevi Ah sì Perdiamo la T1 top Che per... Aaaaaaah Che autoattacco potente Era potentissimo quest'autoattacco Mi sono spaventato Niente Ma una gunblade No Ha un'aura potentissima Gli autoattacco così ragazzi Non li sentivo dal 42 Veramente Degli autoattacchi così Devastante Devastante Aaaaaaah Ce la faremo a finire sto game Tipo adesso Mia, chi lo ferma quello Si è spaventato Xeroth No Ok, facci danni Che credi Ho fermato l'avanzata i Jax con un Ezreal a pie Ecco qua Sono anche arrivati i soccorsi Jax è la GA Eh sì Non ho paura Ah Niente Ci ho provato Lì era Proprio Fucking one shot Ma La sua Q È la sua Q No Inutile che vado Oltre Ammon È meglio non rischiare Better saves Them sorry Si dice Ce la facciamo a finire Dai Basta Sto Jax sta diventando troppo forte Quella ha troppa magic resist Che problemi hai Vabbè Ecco Dov'è? Sei più felice adesso Ma meglio Ora sono più da gaming Però c'è più PPS Vabbè Troppa magic resist No Luca Va molto meglio così Sembra un altro mondo Ovviamente no Però vabbè Adesso ho più FPS Vabbè Non ho più il vertical sync Ho semplicemente tolto il vertical sync Tanuki Quando me lo regaleranno Lo farò Sì Ammon Ho attivato gli RGB Della scheda video No è che Se hai la 1080 Ti Devi giocare ad alti FPS Cioè non importa il fatto Che deve gestirti Tra i monitor Che deve gestirti La load Dello streaming No L'importante è Fa tanti FPS Perché a 1080 Ti La prendi per quello Cazzo L'avesse stunnato L'avesse stunnato Lo one shot Hai mai fatto sport? Da piccolo Ho fatto tennis Mettiamo il v-sync Ma ecco il v-sync Sembra addirittura Più fluido E' più a testo One shot Oh Eppi a testa schicca Bella Non so Guarda guarda Voleva proprio me A tutti i costi Metto il v-sync Che hertz FPS Per carità Non sono la stessa cosa Però gli hertz Sono quanti fotogrammi Il televisore Può mostrarti In un secondo E le FPS Sono quanti frame Il gioco fa al secondo Non sono la stessa cosa Però non è che facendo Ne 300 Ne vedi 300 Ma le sub-war E non ho voglia Di farle In questo periodo Risposta seria Ok Ivon Ugo Ivon Ugo Ivon Ugo Iron Ugo Cosa stai facendo Stai facendo stavolta Proge Non ho mica capito E non ho i gioco Ivon Ugo O E'